Puoi dirmelo anche in diretta se vuoi Va bene, ma siamo in diretta? Eh, festa buona un attimo lì per la cara play Ti stai già filmando Allora Però mi ha beccato un'ortica Quindi così così Ecco, questo magari tagliano, Davide Buonasera a tutti e benvenuti alla terza puntata di Piancavallo News Oggi qui con me una co-conduttrice di spessore, di rilievo E qui con noi oggi un'altra delle 63 protagoniste Solle, ciao Solle, puoi salutare se vuoi Ciao a tutti Bene, tu lo senti entusiasmo, mi piace Allora, oggi giornata spezzata C'era una mattinata di riposo In cui abbiamo approfittato per fare Cosa abbiamo fatto oggi Solle, stamattina? Cosa abbiamo fatto di bella? Siamo andati a prendere il formaggio Cioè, io ho preso il formaggio Alcuni hanno preso il gelato E lo yogurt Esatto, quindi siamo andati a fare una bella passeggiata Sì, molto vicino Abbiamo fatto la bella passeggiata Non diciamo tutti i segreti che era vicino In una maiga qui vicino Quindi fantastico Sei divertita? Sì E invece pomeriggio? Però mi ha beccato un'ortica Quindi così così Ecco, questo magari tagliano Davide Che c'è? Mi hai chiesto Ma no, esatto Ma no, esatto Ma hai ragione, hai ragione Invece pomeriggio abbiamo ripreso Dopo questa mezza giornata di riposo Con gli allenamenti Hai fatto allenamento oggi tu? Sì Meno male perché se dicevi di no Come hai fatto allenamento? Cinque minuti fa ho fatto allenamento E ho... Aspetta Pensaci bene Hai fatto allenamento con Paolo? Sì, ho fatto allenamento con Paolo Che ha fatto ball handling E abbiamo fatto ball handling Abbiamo parlato Io ho chiesto cos'è un playmaker Perché non so cosa Hai ragione? Hai ragione? E Paolo ti ha risposto? Sì, certo Bene Quindi lo sapeva? Sì Ottimo E... Beh, se no cosa sarebbe un allenatore Se no... Hai ragione Hai ragione E... Poi E poi abbiamo fatto flash Abbiamo fatto flash, perfetto Hai vinto? Chi ha vinto? Ah, io sono stata eliminata tutte e due Le due volte per seconda Ci picchia Ti rifarai domani? Sì Bene Da... E che avevo dietro Mikol? Grazie È difficilissimo con Mikol, no dietro? Sì È abbastanza Fa canestro lei? Sì Ma anche tu dai Anche tu Sì ma Non con Mikol Cioè Io ci metto tre tiri Lei ce ne mette due Piano Ci alleneremo Va bene? Così metterai subito il canestro Ok Bene Da pian cavallo Volevi aggiungere qualcosa amica mia? Ehm Ehm Ehi Natti Natti No Sì che voglio aggiungere qualcosa però Devo pensare a cosa aggiungere Dai Diciamo che da pian cavallo No Voglio dire un'altra cosa Allora Eh sì ma devo pensare a qualcosa altro che abbiamo fatto No dai non darmi stress Allora Che Da pian cavallo Vi salutiamo io e Sole E ci vediamo domani Saluto a tutti Sole Ciao Ciao